ciao ragazzi qualche giorno fa mi è caduta questa bellissima punta a tracciare che probabilmente aveva fatto un mio zio l'ho trovato tra le robe di mio papà ed è fatta tramite due pezzi di acciaio inox attorcigliati su se stessi anche questa è una placchetta d'acciaio inox decorata a forma di pesce e aveva una punta probabilmente in qualche acciaio duro comunque vidia o chissà che cosa saldata si vede le tracce della saldatura lì è caduta e si è rotta niente la saldatura era vecchia o chi lo sa adesso volevo provare a risaldarla ma non so come fare allora tanto per cominciare l'ho fissata nella morsa così sperando che tenga naturalmente prima ho pulito le due estremità da saldare al lato invece di qui gli ho messo un pezzo di stagno per fare un po da cuscita allora andremo a fare una saldatura al castolin una lega dolce saldatura anzi una brasatura se vogliamo dirla giusta perché non voglio togliere la tempra alla punta quindi iniziamo a scaldare andiamo bene del disossidante andiamo 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 Potremmo esserci, lasciamo asciugare, vediamo. Direi che ci siamo riusciti, adesso gli faccio di nuovo la punta, vabbè peccato quella goccia che si è fermata lì ma va bene così, l'occhio è penetrata abbastanza bene, adesso gli diamo una smirigliata e via. Dai ragazzi saldatura fatta, sono contento. Non è proprio perfetta ma va bene così dai. Era più che altro perché era un ricordo mica peraltro. Grazie. 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 Grazie.